buongiorno mondo eh buongiorno buongiorno allora tu che russavi che buongiorno dove sei? eccomi dove? eccomi eccomi qua capo ah eccoci aspetta un attimo che mi voglio mangiare la mia merendina al pan di spagna alla stella craft ok me ne dai un poco? eh si però è grosso allora buonissima allora durante la notte ho pensato lì c'è un ammasso di blocchi rossi colorati tutto andiamo a vederlo hai ragione andiamo 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 chi arriva primo paga la cena chi arriva per ultimo paga la cena ok allora vai da qua da qua da qua da qua da qua no acqua di merda sono prima io come? ok tu dove sei? io sono arrivato da tanto tempo come? eccomi qua sono arrivato no devo pagare la cena ma vabbè almeno ci stanno i ristoranti ma vedi che tu non sei ancora là? si si vabbè tanto non c'erano i ristoranti da pagare qui ciao salve 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 vicino vicini mi dica va bene allora andiamo a esplorare questo costo cinema c'è scritto cinema oh Chinese oh! Chinese ma? aspetta forse fanno... di Avengercraft Avengercraft Endcraft ultima versione 2022 what? si siamo nel 2017 strano ok prima di... prima di genere che biglietti prima di genere vero che se no ci prendiamo il Corona Craft no il Corona Craft in sto tempo qua... vai io non ho bisogno vai prima tu tieni ma tu c'hai quel bagno là vai in quello no io non ho bisogno mi dovo le mani si vabbè domani mi sto uscendo la cacca ah cacchio ho fatto diarrea oh cribbio ho le mutande tutte su queste suote eh 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 ah una liberazione dove sei? è finito? tock tock mi senti? si ti sento è troppo più inondata sta porta mi senti? si non è che è morto ecco ti mi senti? andiamo ora a prendere i biglietti devi lavar le mani io li ho lavati ah non ti ho visto allora coca cola coca cola no 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 vabbè io vendo i biglietti sono trentamila euro un biglietto quando? trentamila euro vabbè visto che non paghi la cena paghi il biglietto ovviamente no io ok vabbè andiamo a vedere il cinema ma ma ho capito è uno di quei cinema là la vecchia antica il teatro si chiama capra capra ha parlato quello là però c'è il sipario mezzo rotto no secondo me è tipo un sipario al cinema al cinema no secondo me stanno stanno facendo un teatro horror devono fare può essere vabbè io mi siedo vabbè pure io che so stanco vabbè andiamo subito vabbè andiamocene via da qua secondo me dobbiamo fare come il dragon craft che dobbiamo andare qui per un anno dobbiamo rifocillarsi e poi dobbiamo ritornare a uccidere l'assassinio di quel momento assassino aspetta e che ne sai se sei un assassino e se sei pacifico oddio una birreria birreria seroi di filosteroi di eroina io mi faccio di eroina e di filosteroi no no fermati fermati tu non sei condizioni ancora filosteroi e eroina vero vero vabbè andiamocene che hai rubato andiamoci se no cammina cammina camon già che è colpa tua che siamo qui dentro non mi frega tu non ti devi fare di sostanza stupefacente se no ti faccio diventare nero ok se no ti amo l'uomo allora che facciamo quindi hai rotto che facciamo restiamo qua per un anno e ci rifocilliamo di che di eroina no di aria idiota ma le viate almeno oggi la pillola no ma come manco oggi sono nei pantaloni vecchi io sono venuto in costume ah cavolo va bene wow è il tuo telefono craft eh si purtroppo però non posso leggere i messaggi craft perché non c'è la connessione craft vabbè quindi adesso ci ne ci prepariamo per un anno e poi cerchiamo il malefico tizio losco si ok vabbè ci vediamo ah buongiorno mondo questo fa l'ultimo giorno un amico buongiorgio aspetta che sto vedendo due cose nell'invento fammi cambiare una cosa hai visto come siamo pronti si ma dopo un anno a me mi ha cambiata la voce sono diventato tipo un generale a te ti ha cambiato di una virgola Antonio no perché le virgole io me le mangio a colazione aspetta un attimo che devo mangiare la mia medicina buona aspetta ora mi sento buono pronto si sconfiggeremo quel boss e lo ammazzeremo noi siamo i migliori in questo catalogheremo oh oh Antonio svegliati Antonio ha dormito allora allora la prossima volta ci vediamo che andiamo a sconfiggere il drago e si andrà a me dobbiamo uccidere quello ammasso di polvere va bene allora alla prossima volta bye bye mondo and on and on we'll go 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 Grazie.